benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione in collaborazione con oreo praticamente cioccolato esterno oreo dentro con un caramello andiamo a vedere fa caldo con questa maglia sto morendo ma la verità di youtube si presenta così infatti questo sarà l'ultimo video di assaggio poi se ne parla a settembre lo vedo un po' strano dentro ci spacchiamo questo? non lo so non me lo vedo non mi piace a me so di niente ma dammelo un secondo fammi vedere una cosa pure il caldo ma è scaduto? 10-21 ma non riesco a capire che scaduto no carico gusto cacao praticamente sono delle bottiglie come se fosse tipo coca cola però non è gusto cola ma è gusto cacao se non ispirano un ammiroglio ma è gusto non è proprio il cacao ma è solo cacao non èissimo non è molto bene sembra tipo un egg shake sembra tipo il marshmallow però come consistenza sembra tipo quelle caramelle con mo senza gelatina no, sicuramente io sono un amante di queste caramelle ma non mi fanno impazzire come per esce il chugo se ti piace, non fa la buona ma lo sapevo che avevano una consistenza diversa non lo sentivo senti tipo caffè no, cacao proprio tipo milkshake però sinceramente no non mi ha fatto impazzire la consistenza anche perché se ci fai sopra così si spaccola non me l'aspettavo da aribo confetti cupcake quindi il gusto è confetti cupcake queste sono super buone riscaldate però anche così sono buone sembra tipo quella classica dentro di uno sì, sì ma le formiche mi ameranno dentro c'è qualcosa un po' la crema non è non è tra i gusti più buoni che abbiamo provato tipo quello di morse era buonissimo gelato pure era molto buono ma pure perché era forse proprio questo il sapore dei confetti di cupcake sono quei cosi che poi si sente dolce a morire è dolcissimo sì ma è tipo la glassa cioè tipo quella glassa che sta sui cupcake quel frost quello là quello di zucchero quindi lo zucchero ci specchia non mi fa impazzire c'è tra tutti gli altri no anche la penso anch'io così non stiamo dando neanche voti proprio perché ok la siamo andate a vedere ma questo se non mi sbaglio era un gusto sorpresa quindi era una fanta tra virgolette senza gusto quindi noi dovremmo indovinare il gusto perché pure così Lucy l'aveva tipo segnato una cosa del genere no non me l'aspettavo blu e vai col colante mamma mia c'è tipo uva non può essere no tipo quelli frizzi frizzi riesco a cambiare cioè come fai a indovinare ma Rao mi ricorda ha un gusto di una caramella gommosa quella è la frizzante ma non me l'amendo uguale però è sfiziosa mi sente pure tipo una nota di agrumi ma è buona ma è buona allora Milky Bar Mosha caramel e nougat bar quindi cioccolato bianco caramello e nocciola che cosa è scaduta eh questo è proprio scaduta che penso che penso che si sa pure l'orario ci bacchiamo questo caramello che hai detto caramello nougat e cioccolato bianco non è solo non è solo non è solo ma questo video ti trovo male flop sembra caramella ma neanche il cioccolato bianco si sente anzi spesta un po' di croccantezza in realtà calorie inutili allora un po' avanzano tortina burro da arachidi lo hacker bella questa confezione mi piace volevo prendere anche i buffer ma non c'erano albure da arachidi erano terminati e quindi vabbè si sente già albure da arachidi mamma mia come si sente questo devo per forza mordere buono ma è fondente attorno buonissimo meglio dei risi buono anche le creste wow buonissimo altro che i risi non per manovare wow che ragazza no ma supponiamo che sia cioccolato al latte esternamente lo sai non è fondente buono veramente buono dai almeno con questo cioè ci voleva perché questo video non aveva male ci siamo esallevate cioè penso gli unici due prodotti buoni siano stati le tortille e la fanta poverissima e quindi noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e ne ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao